La mia vita è dura. Mamma e papà sono capovolti. Si chiamano all'incontrario. Papà vuole che faccio pipì seduto e mi bacia tanto. Mamma dice le parolacce brutte poi dà un pugno in pancia al signore del parco. Un porco. Papà piange che si guarda allo specchio e si dà gli schiaffi. Va beh può capitare. Non siamo felici. È colpa mia che ho fatto la magia con la bacchetta. Voi vi rendete conto che tutto questo non è ammissibile? Il bambino non solo racconta di episodi gravi ma si colpevolizza. Va beh però a livello di italiano mi pare ottimo no? Per l'età che ha. Ci sono tre segni rossi.